L'importante è che la squadra sia riuscita a portare un punto importante via da un campo difficile come quello di Bari. Non avrei problema a dire il contrario, quindi davvero. E non ho problema a dire che è stato il 99,9% fortuna, nel senso che io come il resto dei miei compagni siamo stati bravi a crederci fino all'ultimo minuto e ad andare con voglia a saltare su quel calcio d'angolo lì. Poi posso dire che immaginavo che comunque Francesco avesse cercato quella zona di porta. Poi c'è stata la deviazione del vertice, io mi sono girato, la palla mi ha colpito, mi ha colpito la palla. Io l'ho vista sull'entrare, l'ho vista sbattere sulla spalla, ho visto che entrava e poi ci sono stati attimi. Ho fatto la scivolata, mi sono venuti i crampi. Bisogna sempre puntare a fare qualcosa di più, a migliorarsi. Questo è un obiettivo che sicuramente ci poniamo e penso che tramite il lavoro, comunque come stiamo lavorando, a grandi linee ci stiamo riuscendo. Adesso stiamo attraversando un periodo di partite toste. Domenica incontreremo la capolista e sicuramente sarà una partita bella, intensa e molto importante. Sarebbe bello poter contare ancora di più su un pubblico ancora più numeroso. A Bari, insomma, vedere tutto quel settore pieno è stata una cosa molto bella. Speriamo si possa ripetere perché questo è sintomo che si sta creando entusiasmo.